Zona ZTL chiusa al traffico, cosa ne pensa? A me non mi frega niente, c'è il passo, quindi per me possono fare quello che vogliono, un bel discorso di quelli a chiudere, c'è il passo, facciano quello che vogliono, chiudono, aprono. Sono entrate in vigore dal primo maggio le modifiche in merito all'accesso alla zona ZTL, cioè nel centro storico di Lecce, grandi modifiche, grandi cambiamenti per residenti e commercianti, polemica a livello politico, scontri anche all'interno della maggioranza, ma cosa ne pensano i residenti e i commercianti stessi? Ovviamente lo abbiamo chiesto a loro. Buongiorno, zona ZTL chiusa al traffico delle auto, cosa ne pensa? Io sono residente del centro storico, forse riusciamo a ritrovare noi più parcheggi come residenti, perché ogni volta dobbiamo fare, se voglio, una volta il giro. Beh, tanto positiva non è, nel senso che comunque priva un attimino quello che è il commercio in generale, e speriamo che ci facciamo lavorare. Beh, è una cosa giusta, è una cosa molto giusta, perché rispettiamo un po', no? Le strade e tutto. Zona ZTL chiusa al traffico, lei cosa ne pensa? Per il momento bene. Anche se consegnate prima delle 10? Sì, è ottimo come orario, 10-13 per me è buono. Sì, sono favorevole, però deve dare un vantaggio ai commercianti, come parcheggio, come carico e scarico, non si può organizzare così dal nulla, facciamo ZTL dalle 18 ore se non mi sbaglio. Buongiorno, zona ZTL chiusa al traffico, cosa ne pensa? Cosa ne penso? È una limitazione. Le limitazioni sono limitazioni. Laddove si reputa necessario, ma veramente necessario, necessità che non ha a che vedere con altre motivazioni, bene, ma non credo che a lecce vi sia questa necessità. Le limitazioni sono limitazioni, ma non credo che a lecce vi sia questa necessità.